Ultimi appelli per i candidati al turno di ballottaggio che domenica 8 giugno deciderà il nuovo sindaco di Termoli. Ad aprire i comizi da piazza Monumento è stato Angelo Sbrocca, candidato del centro-sinistra. Il suo messaggio ha puntato sulla discontinuità rispetto al passato e sul cambiamento. Affiancato dal governatore Paolo Frattura, Sbrocca ha parlato di una campagna elettorale dura durante la quale ha affermato sono state dette cose non vere. Le primarie ha aggiunto, mi hanno legittimato con un metodo democratico in una coalizione formata da persone di qualità che hanno lottato per essere elette. Sbrocca ha rimarcato un'azione condivisa per una città diversa, senza promesse e opere realizzabili, ribadendo l'impegno per la difesa dell'ospedale Santimoteo e ancora trasparenza, ascolto e partecipazione. Non saremo una fotocopia sbiadita del vecchio governo, ha concluso Sbrocca. Al comizio hanno partecipato anche i sindaci di Campobasso e Isernia, i vertici regionali del PD e altri amministratori del centro-sinistra. Piazza Duomo, la location scelta dal candidato sindaco del centrodestra, Michele Marone. Siamo una squadra unita e compatta, affermato, auspicando una missione rappresentata dal salvataggio della città, dagli assedi di Campobasso, San Martino e Montenero. Non siamo un terreno di battaglia ad occupare, ha aggiunto il candidato del centrodestra, parlando poi del rischio di un greco bis. Un sistema amministrativo ha sostenuto Marone, lontano dai bisogni dei cittadini, che a suo tempo si è annullato da solo. E ancora, la questione dell'ospedale e le proteste nei confronti della regione sui tagli al Santimoteo. Lo stanno distruggendo e non siamo noi che mentiamo, osservato Marone. Moderazione, buonsenso e rinnovamento, i motivi del suo messaggio è un programma incentrato sul rilancio economico e occupazionale e una città più vivibile e sicura, che deve essere difesa su più fronti. Amiamo la nostra città e questo voto, ha concluso il candidato del centrodestra, cambierà la storia di Termoli.